Dopo un momento di grande crisi in cui l'Italia e l'Europa sono sconvolte dalla peste Leonardo da Vinci Michelangelo Sandro Botticelli Architetto Brunelleschi Piero della Francesca Massaggio Raffello Sono alcuni dei nomi che il mondo ci invidia che lavoreranno nel periodo rinascimentale in Italia. Questo periodo è successivo a un periodo di grande crisi in cui tutta l'Europa è sconvolta da una gravissima epidemia di peste. Grazie 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 Grazie